Nella provincia di Arezzo si prevede una vendemmia tardiva con quantità di uva ridotte rispetto alla media. Al momento sembra favorita la qualità aromatica delle varietà a maturazione più precoce, mentre per i tardivi sarà probabilmente necessario posticipare la raccolta per favorire l'ottimale concentrazione zuccherina e delle sostanze coloranti. La viticultura retina sta crescendo costantemente negli ultimi anni e conta oggi circa 6.500 ettari di vigneti di cui circa 3.500 sono doc e docge. La produzione media del nostro territorio sfiora i 250.000 ettolitri di vino all'anno, ma con la quantità negli anni è cresciuta costantemente anche la qualità. Un dato testimoniato dalla crescita dell'export che nonostante la dura concorrenza dei vini più blasonati e l'affermarsi di nuovi paesi produttori extraeuropei hanno fatto registrare nel primo trimestre del 2013 i 14 milioni di euro, segnando un più 22% rispetto allo stesso periodo del 2012. L'esito della vendemia di quest'anno dipenderà comunque dalle condizioni climatiche. Da gennaio a giugno sono infatti registrate piogge superiori alla media, che hanno comportato un ritardo della maturazione di circa 15 giorni. Anche l'ondata di calore di fine luglio, con il passaggio repentino da condizioni umidi a siccitose, ha contribuito a rallentare i processi di maturazione. A questo punto nei nostri vigneti inizia la vera fase qualitativa, per la quale saranno determinanti le prossime settimane. Grazie. 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 Grazie.